caldaia radiant rbs bitermica andiamo un attimo a pulire lo scambiatore e il bruciatore ok bruciatore pulito scambiatore pulito vediamo un po accendiamo la caldaia scaldamento radiant rbs 24 energy qua abbiamo una cliente che si nasconde dietro di me ma non vuole farsi vedere non vuole parlare giusto confermi andiamo a modulare la temperatura ho cambiato il presso stato fumi e la sonda riscaldamento quindi adesso devo impostare in basso e vediamo se va a modulare la fiamma e se si spegne un po qua facciamo 46 gradi della fiammella la meletta di fiammella calda incandescente ok il ritorno dell'acqua è già caldo grazie a tutti grazie a tutti S.R.I.B.I.S.P.I.N.E.R.S. S.R.I.B.I.S. questo sta sostituito ecco l'originale rotto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.